Fino a domenica sarà esposta nelle cortile del liceo Marconi. Da lunedì si trasferirà nel cortile della prefettura. La quarto Savona 15 è a Pesero, ovvero i resti accartocciati dell'autosimbolo della strage di Capaci che ospitava gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, sono al centro del progetto culturale del liceo musicale Marconi che nel tradizionale appuntamento annuale col musical dell'istituto porta in città un oggetto emblema delle stragi di mafia nelle trentennale di un attentato diventato uno spartiacque della storia italiana. Un'auto, un simbolo al centro del musical che fino a domenica si replicherà ogni sera alle 21 mentre la mattina sarà visitabile nel percorso espositivo allestito dallo stesso liceo. La quarto Savona 15 che da oggi fino a domenica compresa sarà visitabile nel cortile del liceo qui dove siamo ora dalle 9.30 alle 13 liberamente da tutta la cittadinanza sta all'interno, i ragazzi hanno avuto questa fortuna, questo regalo meritatissimo di averla come scenografia, come parte integrante del loro musical di quest'anno. È un progetto che da 18 anni si rinnova e che non ha tanto bisogno di presentazioni, tutti sappiamo un po' di cosa si tratta e qual è il valore di questo progetto. Io penso che si fa un gran parlare di ripartenza, di crisi economica, di ripartenza, di inflazione ma io penso che le fabbriche, le aziende anche al di fuori di qua debbano guardare dentro questa fabbrica. Questa è una fabbrica molto grande e molto preziosa dove stiamo fabbricando il futuro, i ragazzi lo stanno fabbricando molto bene, io sono molto fiero di loro. Siamo arrivati qua, la quarto Savona è arrivata due giorni fa, i ragazzi hanno studiato per un anno le parti, la storia e tutto ciò che riguarda la storia drammatica e coraggiosa di Falcone Borsellino e di tutti gli altri eroi e delle eroine che con loro erano e quindi veramente bisogna prendere esempio da loro perché la loro costanza e la loro speranza e il loro impegno farà sì che domani il mondo sarà migliore di come è stato fino ad oggi. La macchina o meglio i resti della macchina della scorta di Giovanni Falcone rappresentano simbolicamente questa cesura della storia italiana. La quarto Savona 15 che è il nome in codice della croma blindata che è stata la prima a saltare a Capaci, quella di Falcone e a Roma è fissa, non è saltata in aria ma questa è la prima. All'interno c'erano Antonio Montinaro, il capo scorta, Vito Schifani e Rocco di Cillo. Diciamo che la custode, il nome tutelare di questi resti è Tina Montinaro, la moglie di Antonio Montinaro, appunto lo dicevo prima, il capo scorta ed è, io l'ho definito vogliere un saccello sacro, non è un monumento, è un memoriale vivo. Il 23 maggio a Capaci nel 92 questa macchina è stata fermata ma in realtà continua perché ogni anno fa tantissimi chilometri e quindi continua a testimoniare quella che è una memoria viva e una memoria che diventa impegno.